Buongiorno a tutti. Salone Agroalimentare. Il nostro Comune sarà presente anche quest'anno con uno spazio espositivo al Salone dell'Agroalimentare Ligure da venerdì 10 marzo a domenica 12 marzo nel prestigioso complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo. Parteciperanno nello spazio anche l'Ufficio Turismo del nostro Comune, la Rete dei Comuni Sostenibili, la Proloco Quigliano, alcuni produttori del mercato natura e con il supporto video di Quigliano Online. Spazio dedicato alla promozione dei prodotti, del territorio, del turismo e dei Comuni Sostenibili. Giornata internazionale della donna. Venerdì 10 marzo alle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Valleggia si terrà uno spettacolo teatrale in occasione delle celebrazioni della giornata internazionale della donna. L'Associazione Culturale 20 e la città di Quigliano presenta uno spettacolo 4 donne di Econ Chiara Buratti. L'ingresso ha un costo di Euro 12. Le prevendite sono disponibili online sul sito Eventbrite. Ingombranti. Ricordo a tutti gli interessati che sabato 11 marzo 2023 dalle ore 8 alle ore 12 in piazza Polero a Cadibone vi sarà il ritiro dei rifiuti ingombranti da parte di Sat. Necessario portare con sé il documento di identità. Comuni sostenibili. Nella giornata di venerdì 3 marzo 2023 nel corso dell'Assemblea Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili svoltasi presso il Teatro dei Ginnasi a Roma, il Comune di Quigliano ha ricevuto la bandiera sostenibile 2023. La bandiera sostenibile 2023 è un'ulteriore tappa significativa del percorso di sviluppo del nostro territorio regolato da strumenti di programmazione, da strategie di sviluppo sostenibile riferite all'agenda 2030 ed anche ad azioni performanti monitorate. La programmazione rappresenta un elemento strategico per realizzare gli indirizzi e per governare le evoluzioni delle diverse situazioni amministrative. Siamo consapevoli del fatto che tutti gli aspetti di tutela ambientale, economica e sociale visti in dimensione prospettica rivestono una rilevanza costituzionale e devono essere quindi armonizzati. La nostra programmazione è gestita in modo puntuale durante tutto il mandato amministrativo rispettando i seguenti termini ordinari di approvazione del DUP e del bilancio di previsione. Una scelta a questa voluta per fornire dall'inizio di ogni anno gli obiettivi e le dotazioni finanziarie a diversi settori. Detto impegno viene mantenuto nonostante due alluvioni 2019-2021, una pandemia e una guerra con i relativi necessari nuovi investimenti e gli aumenti dei costi di spesa corrente in conto capitale. Piano di regenerazione urbana a Rivernazza. Nella prossima settimana sono convocate la prima commissione consigliare, la conferenza del Capilupo, propedeutica e la preparazione del prossimo Consiglio Comunale. Tra le altre pratiche verrà inserita nell'ordine del giorno la delibera che interessa il procedimento di approvazione della variante urbanistica, propedeutica e l'attuazione del progetto del polo logistico e dei servizi industriali della società Vernazza Autogru in una parte delle aree di ex delle aree ex Tireno Power. Buon fine settimana a tutti e a tutte.